Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Come potete vedere è da un po' che effettivamente non aprivo la versione global di Dissidia Opera Omnia. E si vede, si vede, letteralmente si vede, però oggi è un'occasione importante. Oggi è un'occasione importante perché fa il suo debutto Jack Garland, personaggio che a me piace tantissimo, ho sempre stimato e ho sempre consigliato anche con chi effettivamente me l'ha chiesto e mi ha anche richiesto effettivamente di parlare di quel personaggio, di questo personaggio nello specifico e quindi di conseguenza oggi lo puliamo anche nella versione global. A differenza della versione giapponese qui non prenderò la skin perché ovviamente non, assolutamente non ho intenzione di spendere soldi su ovviamente la skin, però possiamo comunque pullare il suo kit, possiamo comunque pullare il personaggio. Ho le gemme sufficienti per un ipotetico pity, ho comunque anche qualche ticket a disposizione che posso tranquillamente buttare, però andiamo a vedere quali sono ovviamente i banner che non ho pullato. Ok, soltanto quelli di Jack Garland. Pensavo ci fossero altri banner in giro che dovessi pullare, invece no, perché Maria mi ha dato praticamente tutto dalla free, mi ha dato la sua force dalla free, Yuna mi ha dato anche la force dalla free, quindi direi che mi è andata piuttosto bene. Allora, free ticket, che sicuramente non mi darà nulla di buono, benissimo. Primo banner con rerun della BT di Gilgamesh e ovviamente force di Jack Garland. Orba azzurra che sinceramente fa sperare poco, in realtà fa veramente sperare poco. La cosa divertente è che io sto pullando, ma non ho le risorse per mazzare i personaggi. Cioè non ho completamente le risorse, perché non giocando ovviamente non possiedo nulla. Spero in qualche campagna, in qualche, diciamo, in qualche cosa che mi possa aiutare per far macchiare qualcosina bella questa 15 di Steiner, molto bella. Tra l'altro abbiamo ricominciato Final Fantasy IX, per chi magari non l'avesse visto o comunque non lo sapesse, quindi se vi va potete venire sul canale Twitch a guardare la perfect run di Final Fantasy IX, che stiamo continuando durante queste festività natalizie. Ne approfitto ovviamente per farvi anche gli auguri di Capodanno, visto che ormai siamo in prossimità del Capodanno. Qui nel frattempo noi abbiamo due multi free che sono veramente vergognose, oserei dire, letteralmente vergognose. E ho anche l'inventario pieno, quindi direi molto 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 figo. E... boh. Ritorniamo a fare pulizia. Ok, abbiamo fatto un po' di pulizia. Il problema è che non ho fatto tantissima pulizia, quindi probabilmente vedrete più tagli durante queste pullate proprio per questo motivo. 280 ticket. La situazione è abbastanza disastrosa, oserei dire, perché non ho trovato praticamente niente di Jack Garland. Quindi è giusto il momento di tentare gli sculo ticket. Quindi... Ok. Prima orba azzurra fallimentare. Ottima. Altra orba azzurra che... Profuma di... Profuma di piti. Benissimo. Mi fermo a 200 ticket. Però qua c'è stato un collegamento lungo, quindi... Vediamo. È vero che ormai i collegamenti lunghi, i connecting, eccetera, eccetera, non significano quasi nulla. Allora... Chissà. Magari abbiamo una sorpresa. Ah, ecco, vedi, forse era la 15, la 35, ecco, vedi. Mi sono uscite, ovviamente, le armi di Jack Garland, quindi ho avuto, diciamo, un caricamento per quello. Ovviamente portato direttamente al livello 70. Andiamo ancora avanti. A breve mi apparirà forse la scritta dell'inventario pieno. E lì sarà un problema. Però... Avremo modo di gestire anche quello. Oh! Un'orba dorata al 200esimo ticket. Vediamo se c'è almeno X o LD. Eh, Jack Garland non si sta comportando bene, in realtà. In Giappone è stato molto più gentile. Qui, invece... Un po'... Un po' più cattivello. Un po' più cattivello. Ok, la X, va bene. La X va bene. Mi mancano, ovviamente, tutti i pezzi più grossi. Quindi... È arrivato il momento di uscire le gemme. Connecting lungo, però... Eh, infatti, immaginavo... Non fosse nulla di particolare. Queste orbe azzurre con le gemme sono una pugnalata al cuore. Va bene. Andiamo... Andiamo a vendere. Che poi, fondamentalmente, non è tanto lo spazio dell'inventario. Perché ho spazio nell'inventario e ce l'ho. Il mio problema è che ho un sacco di 15 e 35 e che non ho unito. E che quindi non ho maxato. E che, di conseguenza, mi occupano, ovviamente, l'inventario. Quindi il problema principale è quello. Altra orba azzurra. Cioè, veramente, pullare con le gemme e vedere le orbe azzurre ancora a fine 2022 è brutto. Ok. Già qua... Già qua... Tiriamo un sospiro di sollievo, però veramente brutto. Cioè, tirare le gemme e vedere la orba azzurra è veramente triste. È veramente triste. Succede anche in JP. Ok. Sarà che magari le armi sono di più, ma... Siamo bene o male nello stesso livello, eh. Cioè, siamo lì. Ok. E intanto la force ce la portiamo a casa. Le uniche che mi mancano a questo punto sono LD e BT. Magari una bella multi con entrambe. Così giusto per toglierci il pensiero e vivere tranquilli. Che ne dici, Jack, eh? La facciamo questa... La facciamo questa follia? La facciamo questa... Questa peripezia di capodanno? No. LD di Regine, no. No. Ancora Regine. No. Va bene, Regine ha una buona sfera, ma... Niente. Qui proprio... Praticamente full kit di Regine che non mi serve proprio, però ok. Chissà se vedremo la orbi incazzata oggi. Ci sta vedere una orbi incazzata. Da un po' che non vedo le orbi incazzate. Perché anche Astos in JP l'ho preso con i tokens. Quindi non ho avuto modo di poterlo pullare nella maniera classica. L'ho preso praticamente gratis. Ecco, ancora Regine. Ovviamente Saiyan. E ovviamente Saiyan. Però Jack Garland no. Perché Jack Garland fa i capricci. Olè. Altro giro, altra corsa. Siamo a 140 G tokens. E la situazione non è delle più belle. Sinceramente. Qua sento odore di pity. Sento odore di pity. Sì. Diciamo che il Global nei miei confronti ha momenti dove è estremamente gentile. E momenti di cui è estremamente infame. Ma più del Giappone. Veramente. Nella versione giapponese. Devo ammettere di essere abbastanza fortunato. Invece il Global è l'unico che mi dà questi scossoni di emozione. Cioè. O va totalmente bene. O va totalmente male. Cioè. Non c'è mai una via di mezzo dove. Come per esempio anche con la versione giapponese. Magari mi dà delle cose con la free. E allora poi dici Sai. Mi dà qualcosa con la free. Allora mi mistica. O comunque mi costringe poi a pullare successivamente. No. Non la fa questa cosa. È veramente frustrante da un certo punto di vista. Perché tu dici. Ti metti il cuore in pace. Dici va bene. Il gioco mi ha beitato. Gli do queste gemme. Gli do queste risorse. Perché è giusto così. Perché è il gioco che lo vuole. E allora ti metti il cuore in pace. Invece no. Non c'è questa cosa nel global. Nel global o non ti dà niente. Perché proprio non ti deve dare niente. Oppure ti dà tutto in una volta. Almeno. A me capita così. Se ci fate caso. Vedete i video. È praticamente questa la solfa. A sto punto spero di fermarmi ai 300G tokens. Se non trovo l'LD. Almeno. Mi dà anche l'LD. E poi spero di prendere la BT. In un modo o nell'altro. Dovrei controllare i tokens. Ma credo di non averne. Credo di avere una ventina. E forse soltanto due BT da vendere. Quindi. Anche in quel caso. C'è poco da fare. Che è veramente pochissimo da fare in realtà. Però l'LD di Jack Garland. Oh. Attenzione. Ah. Niente. Un'altra forza. Ok. Peccato. 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 Ci stavo. Ci stavo sperando. Ci stavo sperando. Perché. Se mi uscisse la BT adesso. E arriva i 300G tokens. Direi che è comunque una vittoria. Avere PT per l'LD. E non. Per forse. O BT. È comunque una vittoria. Almeno nei banner che ci sono adesso. Quindi. Avrei tirato un bel sospiro di sollievo. Cosa che. Non è successa. Però vediamo. Perché ancora. C'è la LD da trovare. C'è l'LD da trovare. Quindi. Questa. Ecco. Questo è il. Pool dei 300. Spartani. E vedremo se gli spartani mi porteranno fortuna. Ci siamo. Il pool. Dei. 300. Ti prego. BT. Dammi la BT qua. Orbo dorata con un loading che. Non credo nei loading ormai. Però. Vediamo. Vediamo che succede. Sono abbastanza curioso. Vediamo. Vediamo che succede. No Regin. No Regin. Sì. Sì. Incredibile. 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 Me la sono chiamata. Me la sono chiamata. Al pool dei 300. Perfetto. Abbiamo chiuso in maniera perfetta. Perfetta. I pool dei 300. Che mi ha dato ciò che volevo. Quindi. PT. Per LD. Va benissimo. Va benissimo. Controlliamo di avere tutto. Perché abbiamo la BT. La FR. La X. Ovviamente ce l'abbiamo. 15 e 35 pure. Scambiamo l'LD. E. Boh. Abbiamo terminato. Il pool di Jack Garland. Abbiamo ancora 90.000 gemme. Va benissimo. Posso farmarle tranquillamente. Altre gemme. Per un altro. Ipotetico. Piti. Quando sarà. Va assolutamente bene. Non ci speravo. Veramente. Non ci speravo. Che ai 300. In un modo o nell'altro. Avrei chiuso. Il banner. Fortuna. Vuole. Che sia stato così. Quindi. Top. GG. Detto ciò ragazzi. Vi ringrazio per aver visto il video. Fatemi sapere ovviamente a voi. Come è andata. Il pool. Per il nostro. Fantomatico. Jack Garland. Il nostro core. Ossigenato. Vi rinnovo ancora gli auguri di capodanno. Ci vediamo in live. Questa sera. Per l'ultima live dell'anno. Se volete ovviamente passare. Per farci gli auguri. Per stare un po' in compagnia. Dato che poi ovviamente il 31 e l'1. Sicuramente non sarò in live. E poi vi rinnovo ancora l'appuntamento. Giorno 6. Per la seconda tombolata. Del canale. Con altri premi. Che potrebbero. Magari sbloccarsi. Dato che siamo vicini. Agli obiettivi. Di sub. E ovviamente. Avvicino anche ad altri obiettivi. In generale. Quindi. Ci sta. Anche la possibilità. Di vincere qualche premio in più. Detto ciò. Vi ringrazio ancora una volta. Per essere stati con me. Vi aspetto. Se volete venire in live. E alla prossima. Bye bye.